Sì, allora, questo ordine del giorno è praticamente sullo stesso argomento dell'ordine del giorno precedente. Qualche giorno fa abbiamo fatto una commissione richiesta dai consiglieri del Movimento 5 Stelle, quello che abbiamo potuto rilevare in questa commissione, che cittadini, politici tutti, l'assessore, erano tutti d'accordo nel dire che questa scelta di dover tornare indietro con il porta a porta su Collanieni era una scelta su cui bisogna assolutamente trovare la soluzione nel tempo più immediato possibile e ritornare al porta a porta in questo quartiere, che è stato uno dei primi quartieri a Roma ad avere il porta a porta, peraltro anche accettato molto bene dalla cittadinanza. Dobbiamo spiegare un pochino quello che è successo. Alcuni lavoratori hanno fatto un ricorso per problemi fisici, date alcune difficoltà che c'erano oggettive nel porta a porta, che sono state anche esplicitate nell'arco della commissione, alcune scale, alcuni percorsi un po' lunghi o quant'altro. La scelta che ha fatto Ama per andare incontro a quella che è stata un'indicazione precisa della ASL di trovare delle soluzioni per rispettare la salute dei lavoratori, secondo la valutazione è stata quella di sostanzialmente ripristinare i cassonetti stradali. Ecco, noi riteniamo che si possa e si debba rispettare la salute dei lavoratori, ma al contempo si possa anche continuare con il porta a porta. Peraltro nell'area degli 11 mila abitanti che sono stati coinvolti da questo passaggio da porta a porta, di nuovo a raccolta stradale dopo tanti anni, in realtà i condomini problematici non sono tutti, per cui noi nel nostro ordine del giorno, così come abbiamo detto in commissione, chiediamo ad Ama di ripristinare immediatamente il porta a porta in tutte quelle zone dove il problema di fatto non sussiste. E per quanto riguarda quei condomini dove il problema c'è, a quel punto di organizzare immediatamente, ma peraltro l'ha detto anche l'assessore in commissione, un tavolo di confronto con l'assessore Ama, amministratori di condominio e cittadini per arrivare al superamento di quei problemi e rispettare la salute dei lavoratori, ma al contempo rimanere con il porta a porta, perché questo tornare indietro non è assolutamente accettabile. Come quello precedente mi aspettavo che anche questo ordine del giorno venga votato da tutta quanta l'Aula. Le dico già, Presidente, che interverrò in dichiarazione di voto della delibera, che anche lì ci sono tante cose da dire molto interessanti. Grazie.